eccoci ciao a tutti oggi sono qua per presentarvi farvi vedere una cosa particolare che ci ha commissionato un nostro cliente e stiamo parlando di una pipa fatta su misura secondo modello che piaceva a lui e particolare in particolare era questo tipo di pipa e lui voleva una pipa in schiuma piccolina e con un fornello leggermente più alto e un pochino più curva e niente secondo queste direttive abbiamo informato a riberto paronelli e ci ha fatto una pipa che adesso vedremo insieme vediamo ecco qua di cosa parliamo secondo me è una pipa stupenda ragazzi veramente bella schiuma di mare da blocco unico non dalla pasta di schiuma una lavorazione che ho visto fare tutto solo da lui è una rusticatura bocchino in corno di bufalo del 1970 nostra esclusiva corredata dal certificato in cui viene menzionato la schiuma il blocco di schiuma ecco qua niente sono ero qui per farvi vedere che se volete da noi potete farvi anche commissionare una viva secondo i vostri canoni i vostri modelli il vostro shape materiale tutto quello che si può fare tutto perché lavorando con gli artigiani la bellezza è questa alla prossima ragazzi e fuma bene fuma lento ciao